Continuiamo con la nostra spiegazione relativa agli aspetti un pochettino più avanzati di React in particolare parlando di come possiamo andare a gestire i form in JSX quindi tutto quello che abbiamo visto nella prima parte del corso come andare a gestire gli eventi, gli eventandlers eccetera dove mantenere le informazioni di stato e così via prima di tutto riguardo ai form così come ci vengono forniti dal linguaggio HTML la prima cosa che notiamo è che sono abbastanza inconsistenti per motivi di compatibilità con il passato a seconda degli elementi che compongono il form possiamo avere differenti modalità per gestire i valori, gli eventi eccetera in particolare con elementi particolari come il ready button, le selezioni eccetera la textarea e così via questi sono solo degli esempi per esempio su come vengono gestiti o gli eventi o direttamente i valori in alcuni tipi di elementi e dei form per fortuna nostra React espone un'interfaccia molto più uniforme tramite le proprietà accessibili tramite il JSX per quanto riguarda da un lato gli attributi che sono disponibili all'interno degli elementi dei form e dall'altro gli eventi che di fatto vengono un po' rivisti tramite questi cosiddetti synthetic events quindi eventi sintetici che sono più uniformi tra i vari elementi del form riguardo a recuperare il valore dei forms in JSX diciamo che il modo principale è quello di andare a anzi più che recuperare e gestire il valore è quello di usare l'attributo value del JSX sull'elemento che ci è di nostro interesse esiste anche un secondo attributo che è il default value che però è il valore iniziale che deve essere impostato quando l'elemento, il campo viene creato all'interno del form e o usiamo l'uno o usiamo l'altro come vedremo perché il valore ovviamente nella modalità di React verrà poi aggiornato ogni volta sulla base dell'evento, del cambiamento tramite la logica che andiamo a specificare con React se invece lasceremo controllare il campo, l'elemento dal browser come vedremo anche possibile fare in alcune specifiche situazioni dovremo utilizzare il default value e non il value perché altrimenti rende l'elemento non più modificabile dall'utente quindi questo si applica a tutti i controlli che abbiamo quindi sostanzialmente abbiamo una maniera uniforme di gestire il valore per esempio anche per i controlli un po' strani come sono per esempio le texteria che hanno il loro contenuto non come value ma in HTML ma come contenuto all'interno del tag piuttosto che il select che usa il selected in HTML ma all'interno del JSX possiamo semplicemente andare a dire qual è il valore dell'elemento selezionato eventi nei forms così come gestiti da JSX diciamo che l'evento principale che andremo a utilizzare è l'onchange passando una funzione all'attributo onchange in JSX possiamo agganciare gli eventi che succedono nei campi dei form cioè sostanzialmente ci viene richiamata la funzione che passeremo come valore dell'onchange ogni volta che il valore di value cambia il value appunto del JSX che è quello uniforme per tutti gli elementi del form quindi funziona, funziona su tutti incluse per esempio le textarea e così via radio button, select selezioni, checkbox eccetera eccetera quindi è stato tutto uniformato per renderlo di più facile gestione appunto in React come capita in HTML gli event handlers in React possono essere, ci sono delle funzioni, delle callback function quindi delle callback che sono chiamate con un parametro che è l'oggetto relativo all'evento tutti gli oggetti evento in React hanno un insieme standard di proprietà tra cui la più importante è l'event target esattamente come in HTML che ci dice qual è l'elemento che ha creato l'evento poi a seconda del tipo di evento ci sono eventi particolari che hanno bisogno di più proprietà proprietà più specifiche e ovviamente questi avranno appunto a seconda della categoria proprietà più specifiche quindi in React sono tutti eventi sintetici diciamo questi synthetic event che racchiudono al loro interno il corrispondente evento DOM quindi quello che abbiamo visto nella prima parte del corso che tra l'altro è anche accessibile per esempio come questa proprietà native event ci consente di accedere direttamente all'oggetto relativo a tale evento quindi abbiamo sostanzialmente gli stessi attributi del DOM event a disposizione più una serie di altri attributi e metodi che possono tornarci utili per esempio probabilmente default nel caso del submit per evitare la sottomissione del form la stop della propagation e così via e il target come dicevamo quindi nel caso dei form le due proprietà più utilizzate degli eventi saranno sul target il value perché è il valore che corrisponde a quello che è stato immesso dall'utente o presente comunque nell'elemento e il name che è quello che è presente come identificativo all'interno dell'html che l'abbiamo scritto comunque anche in JSX con l'attributo name che è quello che ci consente di identificare qual è l'elemento del form a cui facciamo riferimento questa è la lista completa dei synthetic events di React che potete andare a consultare e in grassetto sono quelli che utilizziamo più comunemente per esempio non change piuttosto che non submit sono non click probabilmente quelli che utilizziamo più frequentemente per realizzare le nostre applicazioni ma possiamo chiaramente utilizzare qualsiasi di questi eventi nel caso in cui necessitiamo come andare a definire gli event handler alcune indicazioni proprio di tipo pratico quindi suggerimenti per evitare di compiere errori che sono appunto errori tra i più comuni prima di tutto l'event handler deve essere non viene agganciato con ad event listener questa è una cosa che si fa in javascript puro all'interno del browser in React il meccanismo è differente in React dobbiamo definire una funzione come una proprietà di classe e la classe è quella che definisce il componente quindi scriveremo this.handler uguale a qualcosa la cosa più semplice che vi consiglio di fare è quella di utilizzare queste sintassi che è l'error function l'error function basta appunto assegnarla in questa maniera il nostro handler e abbiamo risolto il nostro problema e tutto funziona ovviamente qui dentro poi faremo quanto necessario set state this state piuttosto che così questo tipo possiamo anche definire la funzione non come error function ma come funzione normale con la sintassi e il nome della funzione parametri e corpo piuttosto che assegnare appunto a una variabile il function qualcosa quindi farla anonima e questo è del tutto equivalente però in questo caso non essendo un error function dobbiamo ricordarci di aggiustare il this quindi di fare in modo che il this dentro il body della funzione corrisponda al componente perché dovremmo poi fare magari dentro la funzione this set state e qui con l'error function funziona automaticamente perché viene preso dal context esterno vi ricordate tutte le regole del this di cui avevamo parlato nella lezione specifica del this breve ma appunto come vedete ora importante e qui invece siccome il this andrebbe a dipendere da dove la funzione viene chiamata se non abbiamo agganciato il this correttamente all'elemento che è sostanzialmente il nostro componente poi non funzionerà cose da non fare invece sono appunto da fare direttamente la definizione in questa maniera senza il bind quindi con function oppure anche senza function perché poi non funziona nel momento in cui abbiamo bisogno del this e quasi sempre avremo bisogno del this perché andiamo a fare il set state ok nel momento in cui scriviamo il jsx per passare l'handler come parametro diciamo della proprietà e quindi fare in modo che poi il browser veda qual è la chiamata da effettuare nel momento in cui si verifica l'evento dobbiamo scriverlo in questa maniera quindi dobbiamo passare con le parentesi graffe perché è un'espressione javascript nel jsx un valore che è il valore del riferimento alla funzione quindi sostanzialmente il nome della funzione come una proprietà dell'elemento jsx quindi deve essere proprio il riferimento alla funzione quindi il nome della funzione che l'abbiamo assegnato abbiamo assegnato al dis come abbiamo visto prima e non può essere il nome della funzione con le parentesi tonde perché mettere le parentesi tonde vuol dire chiamare la funzione quindi questa espressione viene valutata come il valore di ritorno della funzione e questo non è corretto perché dobbiamo passare la funzione e di nuovo non possiamo passare una stringa che rappresenti il nome della funzione questo è di nuovo sbagliato questo è consentito in html ma non funziona nel jsx il jsx aspetta un valore che è un riferimento a una funzione perché così poi riesce a diciamo convertirlo correttamente quando andrà a creare l'html andrà ad aggiustare il DOM nel browser e quindi a settare diciamo la funzione corrispondente da richiamare sull'evento quindi di nuovo sempre sugli handler c'è da specificare il nome della funzione non deve essere chiamato e se dobbiamo chiamarla con dei parametri possiamo usare la sintassi della arrow function quindi passare direttamente una funzione definita direttamente dentro le graffe quindi che prende un parametro che in questo caso non ci interessa e quindi lasciamo vuoto arrow function quindi con la freccia e andiamo a chiamare la la funzione e andiamo a chiamarla secondo di come desideriamo senza parametri ma allora questo è equivalente a quello precedente se dobbiamo inserire dei parametri per qualche motivo a, b quello che volete usiamo questa sintassi non possiamo usare questa perché questa è una chiamata di funzione che viene eseguita immediatamente così come quella sopra come abbiamo visto prima se chiamiamo la funzione in questo momento viene, la funzione viene chiamata nel momento in cui JSX viene valutato e questo non è corretto dobbiamo passare una funzione il valore il riferimento a una funzione che verrà poi chiamata dal browser e quindi il modo corretto di farlo è questo veniamo ora ad un altro aspetto assolutamente importante da capire nel momento in cui abbiamo a che fare con i form che è la gestione dello stato per loro natura i form sono diciamo mantengono uno stato avete la casella nella quale scrivete e in questa casella ovviamente c'è scritto qualcosa e il browser lo ricorda quindi il fatto che lo ricordi è uno stato quindi per loro natura gli elementi del form sono stateful quindi hanno uno stato perché mantengono questo valore che tra l'altro è quello che accedete con il punto value però in React diciamo la filosofia di gestione dello stato è differente e sono i componenti React che devono incaricarsi di gestire lo stato perché questa è la filosofia del framework e quindi c'è questa diciamo tensione tra il fatto che i form per loro natura vorrebbero gestire lo stato ma in realtà il framework ci dice che lo stato va gestito dal componente e quindi dobbiamo capire come andare a gestire questo problema entrambi vogliono gestire lo stato ma diciamo solo uno chiaramente potrà farlo perché React ha necessità di sapere quello è lo stato per farlo rendere incorretto del DOM quindi inserire il valore all'interno del campo per esempio e quindi essere notificato ogni volta del cambiamento con l'on change però questo vuol dire che allora non è più gestito lo stato da parte del form dell'elemento del form direttamente dal browser html e questa è una possibile soluzione infatti adesso vediamo diciamo le due possibili soluzioni che ci porteranno a parlare di controlled components quindi componenti controllati e non controllati che ogni tanto sono necessari perché ci sono delle condizioni particolari in cui l'unico modo che abbiamo di poter accedere allo stato è sostanzialmente quello di andarlo a leggere dal DOM però questo implica poter accedere al DOM ed è una cosa che non siamo ancora capaci a fare e impariamo tra un istante ed è anche quello che succede quando abbiamo tanto codice già scritto in modalità più tradizionale dove ovviamente lo stato è tenuto all'interno degli elementi del DOM quindi se dovessimo integrare il codice vecchio diciamo con un nuovo framework react in qualche maniera o riscriviamo o dobbiamo adattarci a quanto è già stato fatto questa è la maniera con la quale funziona un componente di tipo controlled quindi che mantiene lo stato all'interno del componente react e quindi non diciamo non mantiene lo stato all'interno del campo del for il componente react viene creato dal suo costruttore che inizializza un suo stato interno diciamo x è il valore visualizzato è inizializzato in qualche valore iniziale 0 che è il suo valore visualizzato all'inizio all'interno dell'elemento da react nel momento in cui il componente viene renderizzato la prima volta potrebbe essere la stringa vuota qualsiasi altro valore che vi interessa visualizzare all'inizio nel momento in cui il componente viene visualizzato viene chiamato il motodo render che assegnerà l'attributo all'attributo value in gsx dell'elemento del form this state x e all'on change aggancerà una una funzione che sarà definita ovviamente nel componente qui l'abbiamo fatta come abbiamo detto poco fa con l'arrow function che prende come parametro l'evento e poi andrà a fare qualche operazione in particolare aggiornare lo stato quindi nel momento in cui facciamo il render viene poi col dom visualizzato il nostro elemento che ha un certo valore visualizzato x l'utente interagisce con questo elemento quindi si posiziona sull'elemento e fa che so preme un nuovo carattere per inserire un nuovo carattere aggiungere un carattere e così via comunque cambia questo contenuto viene scatenato l'evento un change che ci porta ad eseguire la nostra callback e questa callback va a cambiare lo stato this set state inserirà in un nuovo oggetto con la valore a proprietà x che prende il valore di event target value cioè quello che c'è scritto correntemente all'interno del form html a questo punto siccome abbiamo chiamato la set state react farà l'aggiornamento del componente quindi oltre ovviamente a cambiare il valore di this state ad un certo punto nel momento in cui è stato cambiato questo valore si scatenerà l'operazione di aggiornamento che di nuovo ripassa per il render va a impostare il nuovo valore nel nuovo elemento che quindi viene sostituito dall'elemento precedente e imposterà ovviamente l'on change sempre nella stessa maniera in maniera che con i prossimi cambiamenti il componente react venga notificato quindi è react che va effettivamente a cambiare quello che viene visualizzato nel form ovviamente l'operazione è estremamente veloce e l'utente non se ne accorge però in realtà qui nel form all'interno del valore c'è sempre visualizzato quello che è contenuto nello stato del componente react e tra l'altro pensate che in questa on change quindi nell'handler dell'evento ovviamente possiamo implementare la logica che vogliamo che se vogliamo forzare l'utente a non non inserire certi tipi di carattere basterà che li scartiamo nel momento in cui sentiamo lo stato e l'utente avrà premuto un carattere e questo non viene visualizzato ovviamente poi magari visualizzando qualche messaggio in aggiunta per dire che c'è stato un problema eccetera dando qualche feedback all'utente però di fatto possiamo visualizzare informazione che deriva da quello che sta facendo l'utente e quindi potenzialmente anche non consentire all'utente di inserire un certo tipo di carattere oppure un certo numero di caratteri massi ma così via questo evento ovviamente può anche essere utilizzato per esempio per visualizzare altre informazioni per esempio per aggiornare una barretta che ci dice quanto è buona la password scelta e cose di questo tipo sulla base della lunghezza del contenuto eccetera eccetera perché comunque si ripassa sempre tramite il componente react che è quello che decide che cosa viene visualizzato nell'elemento del form quindi questo è il meccanismo di funzionamento del componente controllato controllato ovviamente dal che controlla il contenuto del form qui vediamo un esempio completo quindi abbiamo class my form quindi un componente di nome my form abbiamo un costruttore abbiamo uno stato name vuoto inizialmente fa rendere e ritorna direttamente tutto il form quindi c'è un form con un input type text il cui valore è this state value quindi in realtà questo era this state name ovviamente poi lo correggeremo e on change ci sarà this handle change che è che è la funzione definita qui sotto forma di error function così non dobbiamo fare il bind e che farà il this state di name il quale ha l'event target value prende l'evento event target è l'input event target value è quello che c'è scritto dentro l'input e quindi ogni volta che l'utente cambia qualcosa andremo a impostare lo state impostare lo state col set state fa in modo che venga richiamato di nuovo il metodo rende che va a prendere this state name e ovviamente andremo a sostanzialmente rirenderizzare il contenuto dell'input col valore che passiamo noi dal JSX nel momento in cui facciamo la sottomissione del form avremo agganciato un handler anche qui handle submit sul on submit che sostanzialmente va a fare tutte le operazioni che desideriamo in particolare una delle operazioni che vogliamo fare come sappiamo è il prevent default perché altrimenti se lasciamo funzionare il submit va a ricaricare una nuova pagina quindi ci resetta tutto il contenuto della pagina quindi questo è da fare assolutamente e poi qui abbiamo un semplice log che ci mostra il contenuto dell'input qui c'è this state value potrebbe anche essere anzi this state deve essere name ovviamente come prima perché sostanzialmente abbiamo l'informazione che deriva dallo stato che è stato mantenuto aggiornato ogni volta con l'on change in linea con quanto diciamo ha fatto l'utente secondo la logica che abbiamo deciso qui e qui la logica è molto semplice prendiamo quello che ha fatto l'utente e l'abbiamo sostanzialmente riportato pari pari all'interno dello state qualche diciamo indicazione pratica come sempre cerchiamo di essere anche un po' pratici pur essendo una lezione teorica perché diciamo nel momento in cui poi dovete andare a implementare queste cose avere appunto qualche diciamo così dritta su come andare a fare le cose è sempre sempre utile per evitare di diciamo spendere tanto tempo per imparare una cosa che poteva esservi diciamo chiarita molto più facilmente prima nel momento in cui abbiamo tanti campi che è quello che spesso succede perché diciamo un form tipicamente composto da più campi nel quale andiamo a lavorare che sono nome cognome indirizzo numero di telefono eccetera o cose di questo tipo con la logica che abbiamo visto finora dovremmo andare a creare un handle change per ognuno di questi campi e però sostanzialmente se non abbiamo una logica particolare da inserire nell'handle change specifica del 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 campo sostanzialmente in quell'handle change andiamo a fare semplicemente un set state nel momento in cui andiamo a fare solo un set state sostanzialmente definiamo tutta una serie di funzioni handle change che ovviamente con nomi differenti che però fanno la stessa cosa per campi diversi del form allora potrebbe essere più intelligente dal punto di vista della manutenibilità del codice della gestione del codice definire solamente un handle on change per tutti i campi che non necessitano di logica particolare in aggiunta a quella di gestire l'aggiornamento del set state e quindi per fare ciò facciamo un po' attenzione con diciamo come scriviamo le cose in particolare i nomi che diamo ai vari elementi e campi del nostro form e quindi noi facciamo attenzione facciamo coincidere il nome che diamo al componente del form con il nome della proprietà che utilizziamo all'interno del set state riusciamo a scrivere un unico event handler e quindi evitarci la fatica di duplicare il codice su molti handler on change per andare a fare l'operazione di avere un event handler per ognuno di questi campi quindi come facciamo sostanzialmente facciamo in questa maniera nel momento in cui abbiamo l'input diamo un nome ovviamente univoco al nostro input diciamo x il valore sarà il valore di props x usiamo lo stesso nome che ci verrà passato dal dal diciamo dal componente di livello superiore e l'event handler lo scriviamo in questa maniera sotto forma di arrow function che prende un l'event e va a usare il metodo che è quello diciamo che avremo agganciato all'onchange e che è quello che definiamo una volta per tutte per tutti i nostri campi che decidiamo in questo caso di chiamare update field che quindi è passato come property a ogni input e che chiamiamo con la sintesi che ci permette di utilizzare due parametri il primo parametro è quello che ci dice qual è il nome del campo modificato quindi su cui richiamiamo l'onchange have target name e poi diamo anche il nuovo valore have target value l'onchange quindi va a chiamare update field e se abbiamo agganciato correttamente l'update field per esempio appunto mettendo come property this update field che corrisponde alla funzione che abbiamo scritto la funzione la scriviamo in questa maniera e la scriviamo scrivendo proprio name value questo name è fisso scriviamo proprio name e faremo this set state name tra parentesi quadre due punti value con la sintesi che di fatto ci consente di andare a impostare col destructuring una proprietà che è sostanzialmente quella che corrisponde al nome che abbiamo passato appunto nel momento in cui abbiamo avuto la callback e quindi sostanzialmente riusciamo a scrivere un'unica funzione update field che va ad aggiornare la proprietà correttamente dello stato indipendentemente da qual è il campo di input che abbiamo utilizzato perché l'handler usa come parametro il nome che è quello che ci dice qual è il campo di input al quale facciamo riferimento vediamo ora come funzionano i componenti di tipo uncontrolled nei quali lo stato non viene mantenuto all'interno di react ma viene mantenuto all'interno dell'elemento proprio all'interno del form del browser bene questi componenti funzionano nella seguente maniera all'inizio vengono creati e visualizzati con una prima visualizzazione ottenuta chiamando il metodo render in cui impostiamo due proprietà una è il default value notate non impostiamo il value perché altrimenti diventa fisso e non è più modificabile dall'utente ma impostiamo il default value che è semplicemente il valore iniziale contenuto all'interno dell'elemento e lo impostiamo per esempio a un valore che ci viene passato che è una props che ci viene passata e poi impostiamo una callback che ci consente di agganciare il momento in cui il form viene sottomesso perché in quel momento e solo in quel momento andremo a recuperare il valore del contenuto all'interno dell'elemento del form l'utente quando interagisce con l'elemento del form scatenerà degli eventi on change però sono locali al browser anzi magari non abbiamo neanche agganciato l'evento on change del browser perché il comportamento di default del browser quando l'utente cambia qualcosa su questo controllo ci può già andare bene per esempio il caso tipico è quello della selezione del file in cui non possiamo andare a impostare un valore da javascript quindi l'utente seleziona un file piuttosto che ne seleziona un altro comunque fa le sue azioni che ovviamente fanno variare il contenuto dell'elemento del form e quando ha finito invierà il form quindi a noi interessa agganciare l'evento on submit e nel momento in cui abbiamo l'evento on submit ovviamente dovremo andare a trovare un modo di andare a recuperare l'informazione dal elemento e andare a salvare il dato per poterlo processare elaborare e così via quindi ci manca in questo momento questo pezzettino di come andare a recuperare l'informazione dal form che è un form che o meglio dell'elemento del form che non vediamo in questo momento come componente react questa è la difficoltà in questo momento perché non è gestito come componente react in termini di contenuto quindi non possiamo accedere semplicemente allo stato come facevamo prima questo è il pezzettino di codice che diciamo realizza il componente di tipo uncontrolled che abbiamo appena visto non mettiamo l'endler su non change perché diciamo ci va bene il comportamento di default del browser e usiamo il default value come valore iniziale se è richiesto inserire un valore iniziale e non abbiamo lo stato all'interno del componente nel senso che non ci viene modificato quindi se lo inseriamo qui non serve perché non andrà modificato la cosa la cosa che ci manca è come andare ad agganciare poi il valore del nostro elemento del form vediamo prima di tutto come andare a creare il form il form lo creiamo ovviamente agganciando un handler all'onsubmit come abbiamo visto nel disegno di prima perché nel handler all'onsubmit vogliamo andare a recuperare il valore del nostro del value dell'elemento del form che ci interessa e poi avremo il nostro input quindi l'elemento del form che per poterlo agganciare dal componente react dovrà avere questa proprietà particolare che si chiama ref uguale this input e questo this input sarà un create ref quindi un oggetto speciale creato da react che serve proprio ad agganciare l'elemento del DOM nel momento in cui questo elemento esiste ed è creato quindi ci crea questo link con l'elemento del DOM reale che ci consente di andare poi a prenderne il valore quindi nel costruttore faremo this input create ref e poi nel momento del render useremo questo this input come valore del ref che è una proprietà speciale che in react ci consente di agganciare poi l'elemento DOM dal codice del componente e quindi nell'handle submit sostanzialmente andremo a fare l'operazione di agganciare il valore e faremo this.input quindi questo riferimento che è il riferimento all'elemento del DOM non direttamente punto value perché con questa sintassi che adesso andiamo a dettagliare meglio dobbiamo accedere prima all'elemento DOM che è contenuto in punto current e questo ci consente poi di fare punto value che ci dà il valore a questo punto di contenuto dentro dentro il DOM però in questo caso stiamo appunto lavorando già a livello di DOM e quindi questo punto value sostanzialmente è il value che è quello contenuto all'interno dell'elemento DOM e non è più astratto con l'elemento diciamo React andiamo quindi a vedere come funziona questa sintassi del create ref prima di andarla a vedere ancora un'indicazione sulla questione dei componenti di tipo controlled rispetto all'uncontrolled se possibile chiaramente è meglio usare componenti di tipo control per implementare i form perché ovviamente abbiamo già tutto nello stato è tutto coerente col framework React i dati sono esplicitamente gestiti da React tra l'altro possiamo anche imporre dei comportamenti come dicevamo prima quindi per esempio imporre che certe cose certi caratteri non vengano inseriti piuttosto che appunto dare delle indicazioni e cose di questo tipo reagendo a quello che l'utente fa però ci sono delle situazioni in cui non possiamo fare a meno di diciamo andare a gestire direttamente l'elemento DOM per esempio ci sono dei componenti che possono essere gestiti solamente in modalità in control vi facevo l'esempio della selezione del file perché viaggiava scritto non è impossibile impostare un qualsiasi file per una questione di sicurezza tutto questo che vedremo che magari poter accedere a dei metodi particolari degli elementi DOM come l'elemento di appunto il media element dell'HTML5 e cose di questo tipo se le inseriamo poi ci sono dei metodi specifici disponibili solo nel DOM che non sono non sono mappati sul JSX e quindi dobbiamo avere un riferimento esplicito all'elemento del DOM quindi per i componenti tipo uncontrolled lo stato corrente è nel DOM e dobbiamo andarlo a recuperare per esempio questa cosa per quanto riguarda i form HTML5 è interessante perché ci sono già tutta una serie di metodi e di funzionalità implementate negli elementi dei form di HTML5 per esempio per questioni di validazione e così via che sono già esistenti disponibili e diciamo non si vede perché dovremmo riprogrammarci tutto nel nostro codice quando la cosa è già esistente e quindi però per fare questo dobbiamo avere la possibilità di accedere direttamente all'elemento nel DOM poi ci sono tutta una serie di altri tipi di componenti un po' particolari come diciamo prima media player particolari widget sviluppati esternamente e cose di questo tipo che hanno mettono a disposizione dei metodi particolari attributi particolari che non è detto siano disponibili anzi in generale non sono disponibili tramite l'interfaccia del JSX di real quindi la risposta a tutti questi problemi è avere un riferimento al DOM al nodo DOM generato da React quindi usare quel meccanismo che abbiamo intravisto prima che è React create ref assegnarlo ad una proprietà locale della classe e poi usarlo come con l'attributo ref del JSX come valore e così che React automaticamente ci linka il componente DOM quando il componente è montato e quindi abbiamo la possibilità di agire su quel componente tramite appunto il this myref anzi in realtà il this myref current in questo caso perché il this myref è un oggetto il this myref current è l'elemento DOM e quindi su questo possiamo andare a accedere alle proprietà del DOM e accedere agli metodi forniti dal DOM quindi tutti tutti gli attributi del nodo DOM sono disponibili sotto il current quindi questo funziona funziona però nel momento in cui abbiamo la possibilità di fare il this myref quindi per i componenti di tipo classe c'è anche un meccanismo diciamo un po' più vecchio di React che funziona per i trami tipi di componenti che è quello di passare al ref non un valore di una proprietà appunto come abbiamo fatto prima di sinput ma una callback quindi definiamo una funzione sul attributo ref ovviamente già ho scritto prendo le parentesi graph e questa funzione riceve un riferimento al nodo DOM e quindi quello che fa questa funzione è di salvarselo da qualche parte quindi fare myref assegnarlo a this myref in modo che poi tramite this myref siamo in grado di andare a accedere direttamente all'elemento DOM e quindi faremo poi this myref value non più this myref current value perché myref è già direttamente l'elemento DOM e non è un oggetto come prima invece un oggetto ritornato dal creator ref di nuovo alcune indicazioni pratiche su come gestire i form in particolare il momento della sottomissione che è uno dei più critici ovviamente abbiamo l'evento on submit che viene generato dall'elemento form usare sempre event prevent default per evitare la sottomissione e il ricaricamento della pagina ma questo era mai scontato e l'avete già capito dall'inizio del corso che insistiamo su questo per creare le nostre single page application quindi tutto gestito all'interno del client via javascript ecco per fare la validazione dei dati del form prima di procedere potete potete precedere potete diciamo utilizzare in diversi modi utilizzare diversi modi chiaramente se abbiamo messo tutto nello state quindi se sono tutti i componenti tipo control un'opzione è quella di lavorare sul this state e quindi farsi dei check una funzione apposita o delle funzioni apposite che vadano a verificare che i valori contenuti in this state che corrispondono ai valori degli elementi del form siano coerenti con quello che ci aspettiamo secondo la logica applicativa tra l'altro possiamo utilizzare anche dei validatori esterni quindi delle librerie esterne gli stessi che sostanzialmente usiamo per express alla fine sono scritti in javascript e sono disponibili anche sotto forma di libreria da utilizzare in qualsiasi altra porzione di codice dove usiamo javascript e quindi bisogna solamente andare a vedere la documentazione su come questi vanno utilizzati però possiamo anche demandare la validazione a delle funzioni di libreria che importi ha oppure un altro modo potrebbe essere quello di usare le funzionalità di validazione di html5 quindi per esempio sappiamo che in html5 abbiamo la possibilità di avere degli elementi html che ci consentano di già fare della validazione quindi imporre dei valori minimi massimi lunghezze cose di questo tipo bene per consentire di fare la validazione in html5 però abbiamo la necessità di verificare se appunto il form è valida con dei metodi che sono disponibili solamente sull'elemento form in html5 quindi nel DOM e quindi abbiamo bisogno di avere riferimento con uno dei modi che abbiamo visto prima all'elemento form del DOM e quindi sul callback del submit che sarà in questo caso agganciata alla do submit avremo diciamo una logica che verifica prima di tutto che il form è valida ma andando a vedere se effettivamente il form è valida a livello del diciamo internamente al browser nel DOM quindi con il metodo disponibile sull'elemento form e che ci viene messo a disposizione da html5 che vi ricordate abbiamo visto un po' di lezioni fa spero vi ricordiate è per esempio jack validity e poi abbiamo anche a disposizione il report validity che ci consente di andare a vedere che cosa c'è che non va nel momento in cui il form è non valida se il form è valida poi andiamo a fare le nostre operazioni per esempio prenderlo spedirlo al serve tutto quello che è desiderato impostare delle variabili diciamo fare delle operazioni che sono quelle che volevamo fare nel momento in cui il form è da sottometto concludiamo questo discorso sui form con diciamo chiarendo che diciamo scrivere dei componenti di tipo controld per i form ovviamente spesso è un po' noioso perché c'è da gestire sostanzialmente con gli event handler tutto quello che fa l'utente quindi qualsiasi cosa schiacci faccia in particolare aggiorna un campo più campi e così via è da gestire abbiamo visto un piccolo trucchetto per assidere un unico event handler nel momento in cui abbiamo più campi da gestire se non abbiamo logica particolare da inserire però è diciamo non così comodo per cui tutte le volte succede che c'è qualcosa di non particolarmente comodo tendenzialmente c'è qualcuno che ha sviluppato un qualche altro sistema una libreria tipicamente come in questo caso abbiamo questa libreria formic che ci può aiutare a tenere le cose un po' più organizzate un po' più pulite e noi vi consigliamo come molti questa libreria nel caso in cui la voleste utilizzare e non avete solamente diciamo due campi nel caso avete pochi campi di un forum e potete fare le cose a mano anzi è utile per imparare nel momento in cui avete la vostra applicazione che contiene tanti forum con tanti campi chiaramente magari farvi aiutare da qualche libreria che già gestisce alcuni di questi aspetti per voi può essere utile in questo caso vi consigliamo questa libreria semplicemente perché non vi nasconde troppi aspetti di React e quindi vi consente ancora di intervenire con la modalità che avete visto e imparato finora con React nel caso sia necessario quindi vi consente di fare validazione e mantenere traccia di tutta una serie di informazioni e vi gestisce però correttamente lo stato sostanzialmente come abbiamo fatto noi finora un ultimo aspetto su cui richiamiamo l'attenzione in questa lezione è quello della gestione dello stato finora abbiamo visto che appunto per esempio nei form se vogliamo fare i componenti tipo controlled dobbiamo aggiornare lo stato ogni volta che succede qualcosa ed è l'azione diciamo che spesso dobbiamo fare per esempio anche in caso di sottomissione del form e così via in caso di inserimento di nuova informazione c'è da aggiornare lo stato nel momento in cui lo stato è semplice come abbiamo visto negli esempi questi pochi esempi del form quindi è una sola proprietà chiaramente è una proprietà con un valore immediato quindi un numero una stringa e così via basta cambiare la stringa e tutto si risolve ma sapete che ci sono delle regole che abbiamo detto sono da rispettare nel momento in cui usiamo la set state in particolare quella di avere sempre dei nuovi oggetti che siano array o oggetti nel momento in cui creiamo il nuovo stato non possiamo usare diciamo riutilizzare gli elementi precedenti dello stato precedente infatti React fa con gli oggetti fa il cosiddetto shallow merge e però appunto nel momento in cui il valore della property è un array oppure un oggetto come facciamo a gestirlo guardiamo in particolare il caso dell'array perché è uno tra i più comuni ed è per esempio quello che ritrovate nel vostro laboratorio e anche nell'esempio che abbiamo fatto nell'esempio abbiamo la lista degli esami dei corsi visualizzavamo gli esami in realtà e nel laboratorio avete la lista dei task quindi è chiaro che nel momento in cui inseriamo un comportamento dinamico vogliamo poter aggiungere un nuovo corso cancellare un corso modificare un corso e così via e questo lo manteniamo ovviamente in uno stato in uno stato che ha una property il cui valore è un array è l'array che corrisponde alla lista di task bene prima di tutto sappiamo che tutte le volte che usiamo la set state dobbiamo dare in pasto alla set state un oggetto che per la property dell'array ha come valore un nuovo array valore della property e poi secondo ricordatevi di usare una callback in maniera da evitare che ci siano delle modifiche che ci perdiamo perché ricordatevi che la set state come abbiamo detto nella lezione precedente è asincrona quindi non avviene immediatamente per cui io non posso scrivere ok faccio set state eccetera e poi subito dopo usare i valori set state sperando che sia aggiornato magari ci vuole un po' perché sia aggiornato per fare in modo che non ci perdiamo nulla dobbiamo fare in modo che se lo stato nuovo dipende dallo stato vecchio passiamo una callback anziché diciamo calcolare direttamente il valore del nuovo stato sulla base del valore dello stato corrente perché il valore dello stato corrente potrebbe non essere aggiornato se non dipende dallo stato precedente ovviamente possiamo fare quello che vogliamo vogliamo cancellare tutto assegniamo un array vuoto risolto il problema non dipende dallo stato precedente se invece dipende dallo stato precedente come in questi casi aggiunta rimozione aggiornamento e così via è meglio anzi dobbiamo usare una callback per star sicuri che tutto quello che facciamo venga correttamente preso in considerazione nell'area guardiamo per prima cosa come aggiungere elementi a un array ovviamente nel set state diciamo che abbiamo un this state abbiamo una proprietà list che ha un array di elementi abc in questo caso ma non importa potrebbero essere anche dei riferimenti oggetti come nel caso dei vostri task eccetera va bene dobbiamo aggiungere un nuovo task o una lista di task va bene this state callback callback che prende come parametro lo stato precedente e ritorna il nuovo il nuovo stato quindi list due punti la nuova lista che avremmo creato in questa maniera state list punto con cat e con cateniamo il nuovo valore piuttosto che nuovo nuovo array da aggiungere alla termine mi raccomando non usare push per due motivi push prima di tutto modifica l'array cosa che non vogliamo fare no? e l'array rimane lo stesso il riferimento all'array è sempre quello l'array ha degli elementi in più invece noi qui col con cat il con cat se andate a leggere sul manuale ritorna un nuovo array secondo il push non ritorna l'array ma ritorna il numero quindi se scriviamo push non va bene non possiamo fare list uguale state list push perché list conterebbe un numero e non conterebbe più l'array a parte il fatto che l'array è sempre lo stesso e non va bene quindi usiamo il con cat e ritorniamo il nuovo valore come valore della proprietà il nuovo array tra l'altro notate anche che abbiamo la possibilità di usare una sintassi un po' più diciamo compatta in questo caso che abbiamo voluto mantenere più esplicito semplicemente per chiarezza ma se noi facessimo return aperta graffa list chiusa graffa stiamo usando quel meccanismo di es6 di javascript che ci consente sostanzialmente di dire che stiamo ritornando una proprietà di un certo nome col suo valore che è quello che appunto fanno poi in questo esempio che vi abbiamo linkato nel caso specifico in cui volete aggiungere qualcosa all'inizio e non alla fine come invece fa il concat potreste per esempio usare il meccanismo dello spread quindi fare un nuovo array aprendo le quadre scusate e mettere il nuovo elemento che ci interessa inserire virgola e poi fare lo spread di tutto il resto dell'array che già esiste quindi il state list in questo caso e ovviamente ritornare list ok aggiornare elementi nell'array bene qui la cosa da fare e la cosa migliore è usare map map di default ritorna un nuovo array questo lo sapete map l'abbiamo già usato più volte per questo che abbiamo insistito molto su questi metodi di programmazione funzionale map, filter e così via perché ci tornano estremamente utili poi qui nella gestione dello stato come sempre la callback in questo caso abbiamo una lista di numeri ma giusto per fare un esempio diciamo così comodo e non avere una complicazione nell'aggiornamento però qui ci può stare qualsiasi logica della vostra applicazione che aggiorna in elemento quindi che so fare accesso a una proprietà se è un oggetto e prendere quella proprietà e fare non so aggiungerci cambiarla fare aggiungere una string fare tutto quello che desiderata quindi map map prende una callback la callback prende come parametri l'elemento su cui lavorare il suo indice oltre che altri parametri però diciamo in questo caso avevo deciso che io volevo modificare l'elemento a posizione indice i quindi nel momento in cui j è uguale a i faccio la modifica che ritengo in questo caso ho aggiunto più una ma come dicevo prima posso fare tutto quello che voglio se è un oggetto posso accedere ai campi modificare i campi e così via in questo caso di nuovo attenzione che se è un oggetto devo creare un nuovo oggetto quindi posso accedere ai campi dell'oggetto vecchio ma devo creare riferimento a un nuovo oggetto e quindi ritornare riferimento a un nuovo oggetto perché l'aggiornamento appunto del set state è shallow quindi nel momento in cui cioè deve potersi capire che l'oggetto è stato cambiato il modo per capirlo è quello di avere il riferimento a un nuovo oggetto altrimenti se non è quindi la map sta girando diciamo sul mio array e l'elemento non è a modificare ritorno l'elemento stesso perché tanto ci sarà un array che è già nuovo perché la map ritorna un nuovo array l'importante è ritornare il nuovo array e poi per ogni elemento modificato devo andare a ritornare a qualcosa di diverso quindi se è un valore basta fare la modifica perché è un valore immediato e si vede subito che è diverso se è un oggetto più complesso quindi un altro array e un altro un oggetto devo andare a creare un nuovo oggetto e poi return al termine che ho messo list con la sua sintassi abbreviato come abbiamo visto prima e che viene ritornato dalla callback che va a modificare lo stato ultimo caso rimozione di elementi da un array quindi il modo più facile è usare la filter ricordate anche la filter ritorna un nuovo array il nuovo array è un array nel quale andiamo a ritornare sostanzialmente tutti gli elementi e quindi tutti gli item per i quali l'espressione è vera quindi sarà vera per tutti gli elementi il cui indice j è diverso da i nel caso in cui voglio rimuovere quello a indice i e quando invece i sarà uguale a j e questo ritorna true e scusate questo questo voglio dire ritorna false e quindi quell'elemento non viene incluso nel nuovo array creato dalla filter e quindi alla fine faremo un return list e abbiamo risolto il nostro problema e ritornato un nuovo array che non include un certo elemento rimuovere diciamo un elemento che so quello in prima posizione o nelle prime posizioni possiamo di nuovo usare un trucco simile a quello dello spread chiaramente qui sul lato sinistro nel senso usare il destructuring nel fare l'assegnamento e quindi prendere state list e destrutturarlo nel momento in cui le assegniamo un nuovo array e quindi isoliamo l'elemento che è quello che non vogliamo ritornare e e poi andiamo a ritornare il pezzo rimanente del nostro array e quindi ritorniamo list abbiamo quindi chiarito che come come dobbiamo cioè qual è la maniera migliore di gestire il gli elementi diciamo presenti in un array quando andiamo dobbiamo andare a manipolarli e dobbiamo fare l'operazione per aggiornare lo stato all'interno del componente react quindi mi raccomando bisogna fare molta attenzione a come gestiamo lo stato questa è una fonte di errori perché nel momento in cui react non è in grado di accorgersi che qualcosa è stato modificato perché non abbiamo modificato secondo i canoni e richiesti quindi ritornando il nuovo array eccetera la visualizzazione non si aggiornerà non si aggiornerà correttamente quindi ci sembra che la nostra applicazione non funzioni ma in realtà è semplicemente perché abbiamo manipolato lo stato come array in maniera non corretta arriviamo quindi all'ultima lezione all'ultima slide di questa lezione in cui di nuovo abbiamo un insieme di consigli che ci sentiamo di darvi per diciamo capire diciamo dove inserire lo stato all'interno delle vostre applicazioni prima di tutto distinguendo tra i componenti di tipo presentazione che quindi possono avere uno stato e come abbiamo visto tra l'altro appunto gli elementi dei former sono elementi che hanno uno stato per loro natura piuttosto che tabelle o altre liste eccetera che possono avere uno stato ma solamente orientato alla presentazione come presentare l'elemento in una maniera piuttosto che in un'altra e questo stato chiaramente dovrebbe stare all'interno del componente stesso che so questo stato potrebbe essere l'ordine nel quale abbiamo utilizzato per ordinare gli elementi piuttosto che se l'elemento è più complesso se aperto chiuso in pausa attivo e cose di questo tipo quindi questo è proprio il classico stato locale da utilizzare nel caso di componenti di tipo presentazione e questo stato non è di interesse al di fuori del nostro componente quindi lo manteniamo all'interno del nostro componente ed è proprio la classica indicazione dello stato da mantenere all'interno del componente stesso e poi invece ci sono diciamo stati che sono relativi al funzionamento dell'applicazione stessa quindi sono stati in cui si trova l'applicazione nella sua interezza per esempio stiamo che so dipende dalla logica dell'applicazione ma stiamo in fase di editing di qualcosa quindi abbiamo una visualizzazione che è relativa a un editing di qualcosa piuttosto che stiamo solamente presentando qualche cosa piuttosto che stiamo appunto facendo qualche altra attività questo è uno stato dell'applicazione dipende dalla logica applicativa e questo è solitamente contenuto all'interno di componenti o a livello top dell'applicazione piuttosto che componenti tipo container che ci dicono che cosa sta venendo visualizzato e così via e generalmente questi valori contenuti in questi stati per darvi un'indicazione pratica non sono usati direttamente per generare del codice di markup cioè quindi per il JSX magari sono usati nella scelta di visualizzare un componente piuttosto che un altro componente ma solitamente non vengono utilizzati per la creazione di proprietà particolari o per il context molte volte lo stato dell'applicazione è portato diciamo in su nella gerarchia fino al livello di un container che sostanzialmente ha visibilità su tutti i componenti che hanno necessità di conoscere questo stato e questo è anche logico da un certo punto di vista secondo la filosofia del framework REACT perché così diciamo si centralizzano si centralizza la gestione dello stato c'è un singolo punto dove c'è appunto la verità diciamo così riguardo lo stato cioè effettivamente è quello l'unico punto nel quale dobbiamo andare a agire per modificare lo stato della nostra applicazione in termini di logica applicativa no? cioè quello che deve fare è l'applicazione in quel momento o nello stato in cui si trova e e così tutti i componenti che dipendono da quello stato che sono quindi sotto componenti all'interno della gerarchia dei componenti verranno aggiornati di conseguenza tutte le volte che modifichiamo lo stato secondo il funzionamento della logica applicativa della nostra appunto applicazione web abbiamo quindi concluso questo diciamo di discorso che ci ha portato a conoscere i componenti di React in maggiore dettaglio e quindi ha portato a conoscere come funziona il context il ciclo di vita dei componenti come andare a gestire al meglio i nostri form e come andare a gestire lo stato soprattutto in casi più comuni appunto quelli della gestione di strutture dati complesse come per esempio gli array come vi troverete a fare per esempio il laboratorio con i task e così via abbiamo concluso con una serie di considerazioni che ci dovrebbero consentire di guidare nel migliore dei modi a posizionare diciamo così le variabili che contengono lo stato all'interno dei nostri componenti React nella posizione migliore possibile all'interno della gerarchia dei componenti React concludiamo qui questa lezione poi ci sarà chiaramente un momento in cui andremo a sviluppare ulteriormente l'esempio dei voti degli esami nella direzione di per esempio introdurre i form così avete una guida che potete utilizzare nello sviluppo ulteriore dell'applicativo che state creando nei vostri laboratori grazie per l'attenzione